Roma Europa, che oggi dirige a titolo gratuito. È stata per tre anni commissario della Francofonia a Parigi, un incarico conferito dal Presidente della Repubblica Francese. Per tre anni direttore generale e amministratore delegato di Palazzo Grassi a Venezia. Consegnerò il testo così vedrete il resto. C'è qualcuno sano di mente in quest'Aula che possa anche lontanamente ipotizzare che questo percorso professionale abbia in qualche modo beneficiato della relazione con me, ma è probabile semmai il contrario. Sì, allora, scusate, deputati, deputati, per favore, deputati, allora, deputato Frusone, per favore, per favore, per favore, miccoli deputato, lasciate finire il deputato Causi, per favore. Siamo tutti provati. Adesso cerchiamo di concludere in maniera civile questa seduta. vi prego. Allora, deputato Sibilia, deputato Sibilia, deputato Sibilia, per favore, deputato Sibilia, la prego. Adesso, deputato Duva, adesso ripresi... Sì, e se lei mi parla così, io non posso... Allora, per favore, per favore, colleghi, vi prego, colleghi, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti le provocazioni... Deputato Miccoli, deputato Miccoli, basta, basta, basta. Allora, deputato Frusone, la smetta. Allora, deputato Frusone, per favore, adesso la smetta. Deve finire il deputato Causi. Presidente, è probabile, semmai il contrario, che la relazione con me abbia danneggiato Monique Vot, almeno in Italia, almeno per quello che è successo negli ultimi giorni. Ed è sufficiente guardare il curriculum di Monique e paragonarlo con il mio per capire che non ha alcun senso pensare a Monique come alla signora Causi. Piuttosto, è più probabile che io sia messia e voto. E, in effetti, in tantissimi casi lo sono stato e lo sarò, come è naturale in una relazione come la nostra. Una cosa che è il maschilismo demogretto e vergognoso di alcuni deputati di questa stessa. Sì, allora, deve chiudere, però. Deputato Causi, concluda. Non riesce neppure a conoscere. Concluda, concluda, che è bene oltre il suo tempo. Allora, colleghi, adesso gli interventi di fine seduta, come voi sapete, hanno una nuova regolamentazione che è stata comunicata a quest'Aula. Bisogna comunicarli tempo prima, due ore prima, dall'inizio.